Sì! E' essicciare? E' essicciare? Ma è così! Molto, 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 molto! Sì! 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 Quindi siamo in Toria nel Nuova! Sì! 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 Vino! Vino! qui 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 e e ma LA E a carona di Nandone di Oqueli a rio Martini di Mungeri metriete a funghi e la Bishuma con la tua ironia è una fuça ma metri a voi e a conto per te Martini di Mungeri e a la loro per me è capitato e io bax o grava iwe da Martini di Nandone io ho una check ora qui lo vace raggiunge il tuo cuca la mia figua la mia uccola che ne siamo da andare a Mungeri da Gia Mungeri di Amungeri e la fusa tu da per la a raggiungerla quel signore la suvela Mungeri a che siama se ritardi la tumiglia salita salita e del siringe di il mio sumo curiosa il suo più a tutti la fusa un'uccingo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.